Parole di sostegno dal gruppo Estasi Portate queste parole nel mondo affinché sia resa giustizia alla verità. Altre sono le verità a cui aspirate e non c'è strada sicura per giungervi. Ma se queste parole possono sostenervi, queste parole potrebbero fermarvi. Né io né nessun altro possiede la verità perché essa sta oltre il conosciuto, oltre il tempo, nell'eternità dell'esistente. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate, mentre io vi dico che la speranza deve essere vostra compagna, per sostenervi quando siete stanchi, per cullarvi in un dolce sonno per placare la vostra sete e per asciugare le vostre lacrime. Solo un passo ancora, fratelli cari, e un passo dopo l'altro giungerete infine dove i cancelli della verità si apriranno, per lasciarvi pieni dell'amore divino. Non abbattetevi per chi non vi segue, ma tendetegli la mano che avete ricevuto, affinché, oltre le parole, vi siano anche le azioni. La continua ricerca dell'intimo rapporto con l'assoluto è la chiave che aprirà quella porta. È il convivere con se stessi, allontanandosi dai falsi dèi, l'afrodisiaco divino.